Signor Rossi, buongiorno, sono Elena di Schneider Electric. Abbiamo ricevuto la sua richiesta via e crediamo che i nostri servizi Facility Insights siano la risposta giusta. Un nostro partner sarà da lei domani per un incontro. Piacere! Credo che le nostre soluzioni risponderanno alle sue esigenze. Le propongo un'analisi dell'impianto. Le manderò poi una proposta per ottimizzare la manutenzione e la gestione energetica del suo edificio. Ok, ma che benefici avrò? I nostri servizi miglioreranno la gestione quotidiana del suo edificio grazie a risparmi energetici, ottimizzazione della manutenzione, miglioramento della continuità di servizio, conformità agli standard. Ok, ma come funziona? Prima di tutto installeremo dei misuratori per raccogliere i dati significativi del vostro impianto riguardanti gli asset e i consumi energetici. I dati vengono inviati ai server cloud della piattaforma Facility Insights e analizzati da me e altri esperti per fornire raccomandazioni dettagliate sui possibili risparmi come effettuare la manutenzione dei rooftop, gestire l'impianto HVAC a seconda dell'occupazione dell'edificio, correggere le anomalie di consumo notturno. Sono veramente soddisfatto dei servizi Facility Insights. Ho già risparmiato l'8% sui costi di manutenzione e il 10% sui consumi energetici. Ottimo! Ma cosa posso fare per mantenere nel tempo questi risparmi? Ci sono dei modi per risparmiare ancora di più? Possiamo effettuare altri miglioramenti per rendere l'edificio ancora più efficiente, installare un sistema di controllo dell'illuminazione, installare un sistema di refrigerazione più efficiente, rivedere i set point di temperatura, continuare a monitorare quello che abbiamo realizzato quest'anno. Fantastico! Parliamone e decidiamo cosa migliorare il prossimo anno!